pace bene a tutti ringraziamo gesù della sua presenza oggi voglio proprio parlare dell'amore di dio e chiedo proprio che tutto sia consacrato a maria ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte amen san michel arcangelo con la tua luce illuminaci con le tue ali proteggici con la tua spada difendici spirito santo grazie per la tua presenza e grazie perché veramente alla fine di questa catechesi che potrà ascoltare grazie a te spirito santo dirà non ci ardeva forse il cuore mentre ascoltavamo la parola di gesù ecco grazie per quello che farai spirito santo grazie per la meridie che fai e quello che farai allora oggi voglio proprio annunciare il santo vangelo e il cuore del vangelo che è l'amore di dio l'amore di gesù cristo l'amore del padre del figlio dello spirito santo e per fare questo oggi voglio parlare di un aspetto meraviglioso proprio dell'amore di dio che si manifesta in maniera meravigliosa nell'alleanza nelle alleanze allora voi sapete che l'amore fra dio e l'uomo si è sempre in qualche modo e sigillato in un'alleanza dio ha talmente amato le persone singole anche le persone come popolo che le ha volute stringere sempre se attraverso un'alleanza e l'alleanza di solito prevede un sacrificio offerto a dio e in qualche modo e prevede anche diciamo un mediatore in qualche modo che media se così possiamo dire fra dio e l'uomo siamo un mediatore che di solito offre questo sacrificio allora e possiamo vedere per esempio diverse realtà in qualche modo che era un'immagine proprio dell'alleanza poi piena e ultima e definitiva che sarebbe avvenuta in gesù cristo stesso sulla croce quando ha versato il suo sangue allora se noi cerchiamo un sacrificio è un mediatore e il primo che ci viene in mente qualche in qualche modo è abbele abbele offriva dei sacrifici a dio e si dice che i sacrifici erano graditi mentre quello quelli di suo fratello carino no quindi in questo caso il mediatore era abbele in qualche modo che era figura poi del vero figlio che è Gesù Cristo e poi nella scrittura si parla di Melchisedec che offrì a dio pane e vino poi si parla di Abramo che a un certo punto il suo invito di dio stava per offrire il suo figlio a dio proprio figura dell'offerta poi dell'offerta poi del vero figlio che è Gesù Cristo il figlio del padre quindi il mediatore in questo caso era abbele poi Melchisedec e poi Abramo poi c'è nell'alleanza della legge c'è Mosè e Aronne e Mosè offre le cose in quanto profeta del Signore e Aronne in quanto sommo sacerdote vi ricordate che i sommi sacerdoti offrivano nel tempio gli agnelli gli olocausti le offerte e tutto quello che c'è scritto nella legge di Mosè quindi vedete Abele Melchisedec Abramo Mosè e Aronne poi per esempio c'è anche Noè che viene ancora prima di Mosè e Aronne che è uguale è mediatore di un'alleanza e Dio gli dice di costruire un'arca dice di portare in quest'arca le coppie di animali che poi sarebbero rimaste vive e quindi vedete Abele e Noè Melchisedec Abramo Mosè e Aronne e infine c'è la vera alleanza quella definitiva le altre erano tutte immagini immagini della vera alleanza che è quella in Gesù Cristo allora ogni alleanza ha avuto in qualche modo un patto è appunto fra Dio e l'uomo ma in qualche modo tutte le alleanze di prima e tutti questi patti di amore e stiamo parlando appunto dell'amore di Dio che si manifesta in particolare nell'alleanza in qualche modo erano sempre difettose fino a quando è arrivata l'alleanza perfetta naturalmente erano difettose non dalla parte di Dio Dio non ha mai difetti ma dalla parte dell'uomo e allora finalmente è arrivata l'alleanza perfetta sia perfetta dalla parte di Dio sia perfetta dalla parte di chi la offriva perché? perché se nell'alleanza c'è un sacrificio e c'è un mediatore nella nuova ed eterna alleanza quella offerta da Gesù il sacrificio era Gesù stesso che era perfetto e il mediatore colui che si offriva al padre era Gesù stesso ancora quindi era perfetto il mediatore ed era perfetto il sacrificio in tutti gli altri non si poteva dire che le offerte erano perfette perché? perché chi offriva era un uomo era Bele che offriva, era Abramo che offriva, era Mosè che offriva, era Noè che offriva e l'alleanza stessa di Melchisede per quanto perfetta ma non era l'alleanza perfetta come la voleva Dio l'unico in cui si è compiaciuto il padre e ha detto proprio questo è il figlio mio prediletto l'amato e lui mi sono compiaciuto cioè l'unico sacrificio di cui si è compiaciuto Dio completamente e definitivamente ed eternamente perché offerto da un mediatore perfetto è quello offerto da Gesù proprio perché il mediatore è perfetto e il sacrificio è perfetto e oltretutto i sacrifici offerti dagli altri erano limitati perché potevano offrire il pane e il vino come segno era un segno di quello che poi sarebbe stato il sacrificio offerto ma soltanto un'immagine non era la realtà un segno oppure offrivano un cavro anche se offrivano un figlio come Abramo ma era sempre l'offerta tra virgolette di un essere umano che è difettoso e voi vi ricordate che nella legge di Modena si dice che l'agnello che si doveva sacrificare doveva essere senza difetti quindi l'unico sacrificio senza difetti che veramente si è realizzato è stato quello di Gesù Cristo perché al Padre si è offerto Gesù che è veramente il verbo fatto carne Dio fatto carne quindi il sacrificio è perfetto sia perché il sacrificio è voluto a Dio sia perché l'umanità di Cristo era perfetta senza peccato innocente, santo, perfetto quindi veramente Gesù è l'agnello senza difetti e questa è una cosa meravigliosa sapete perché? adesso vi mostrerò per la grazia del Suo Santo le differenze fra le alleanze passate e la meravigliosa alleanza in Gesù Cristo e come dire vi mostrerò la differenza fra l'amore che c'era nel patto fra Dio e l'uomo nelle alleanze passate e invece l'amore perfetto che si manifesta nell'alleanza fatta in Gesù Cristo stesso nel sacrificio di Gesù nella sua passione, morte e risurrezione allora tutte le altre alleanze in qualche modo prevedevano che l'uomo offriva qualcosa a Dio e poi Dio li avrebbe benedetti Abbele offriva una cosa e Dio si è compiaciuto e l'ha benedetto Melchisede ha offerto qualcosa ed è stato benedetto Abramo idem idem e Mosea Ron idem e Noè ah, non ho parlato di Giacobbe anche Giacobbe e diciamo è importante in tutto questo e quindi ecco è molto molto importante chiarire questo punto quindi ecco per ricapitolare bene semplicemente le alleanze appunto passate erano quelle di Abbele Melchisede Giacobbe Abramo Mosè e Aronne tutti quelli che abbiamo già nominato in tutto sono sei le alleanze e poi c'è la settima alleanza che è quella ultima e definitiva in Gesù Cristo ognuno si comporta da mediatore in qualche modo che è immagine poi del vero mediatore unico vero mediatore che è Gesù Cristo e ognuno offre Dio un sacrificio in maniera diversa Giacobbe costruiva in qualche modo la stela l'altare nel luogo dove aveva incontrato Dio e tutto quello che abbiamo detto ma poi non vi sto a approfondire qua tutte quante le cose per descriverle perché l'indicazione di queste alleanze è soltanto poi importante per parlare della nuova e eterna alleanza quella è quella dove ci soffermiamo perché le racchiude tutte le diciamo le compie tutte una volta che si capisce quello di Gesù poi nel tempo approfondiremo sempre più anche le altre allora vi dicevo la prima differenza fondamentale della nuova eterna alleanza di Gesù e le altre è che nelle altre si offriva c'era un mediatore e c'era un sacrificio ma non era mai perfetta in qualche modo l'offerta in qualche modo Dio in vista di Gesù la vedeva perfetta ma in sé non lo era perché appunto si offriva sempre qualcosa da parte dell'uomo che non poteva essere perfetto perché dall'uomo l'uomo da solo non può essere perfetto anche se offre una cosa con tutto il cuore non è una cosa perfetta come la vorrebbe Dio invece come vi ho detto in Gesù Gesù offre se stesso e quindi agnello senza difetti quindi il sacrificio è perfetto e c'ha meriti infiniti non è difettoso in nulla e il mediatore è unico ed è perfetto quindi l'alleanza diventa perfetta perché c'è il mediatore il mediatore perfetto è il sacrificio perfetto qual è questa è la prima cosa importante la prima distinzione meravigliosa per capire la nuova eterna alleanza e poi c'è un'altra cosa importantissima e è talmente vera questa cosa che vi dico che sulla croce ci insegna il catechismo della chiesa Gesù si è offerto al padre quindi da mediatore ha offerto se stesso in sacrificio al padre quindi è stato sulla croce si è offerto direttamente lui al padre e il concilio Vaticano II dice che Gesù continua lui ad offrirsi oggi al padre per le mani dei sacertoti durante la Santa Messa quindi anche la Santa Messa è l'unico sacrificio di Gesù sulla croce e viene riofferto al padre per le mani dei sacertoti ma è Gesù come unico mediatore che lo offre per le mani dei sacertoti e quindi anche la Messa è essendo l'unico sacrificio della croce un sacrificio perfetto infatti la liturgia della Chiesa dice o Dio che in questo sacrificio perfetto se voi leggete il primo canone della Messa uguale dice che il sacrificio della croce che si rioffre proprio per le mani dei sacertoti il sacrificio che si offre sulla croce e sull'altare è lo stesso cambia solo il modo sulla croce l'ha offerto direttamente Gesù e sull'altare Gesù lo offre per le mani dei sacertoti ma è l'unico ed eterno sacrificio con meriti infiniti sempre lo stesso questa è un'altra cosa meravigliosa quindi quando noi andiamo a Messa e riceviamo la comunione noi stiamo ricevendo veramente Gesù in persona proprio il frutto ci viene comunicato veramente il frutto infinito che è il suo sacrificio cioè è una cosa pazzesca quando noi partecipiamo alla Messa partecipiamo all'unico ed eterno sacrificio e riceviamo la comunione proprio il corpo sangue anima e divinità a questo sacrificio cioè è una cosa pazzesca 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 se gli ebrei solo perché le loro case sono state sperse col sangue non sono stati toccati dall'angelo sterminatore solo perché hanno segnato i stipidi e le porte col sangue immaginatevi noi che riceviamo dentro la comunione il corpo e sangue veri gli ebrei mettevano sulla casa il sangue dell'agnello che era l'animale che rappresentava poi l'agnello Gesù quindi gli ebrei si salvavano solo dopo aver messo sulla casa l'immagine del sangue di Gesù noi invece riceviamo il corpo e sangue vero di Gesù Cristo lo riceviamo nella nostra casa che siamo noi e quindi c'è un santo che dice che la nostra anima viene santificata e il nostro corpo viene in qualche modo asperso come le pareti di una casa col sangue di Cristo perché il nostro corpo sono come le pareti della casa quindi sulla nostra porta cioè sulla nostra bocca in qualche modo che possiamo con la porta viene proprio riceviamo infatti il corpo e il sangue di Cristo sulla porta della casa degli ebrei veniva sparso il sangue invece nella nostra porta entra proprio non solo la nostra bocca viene viene veramente irradiata da questo sangue ma proprio lo riceviamo dentro di noi il vero poi sangue il corpo di Cristo l'anima la divinità non l'immagine pensate che significa questo ognuno ne tragga ci metti e ne tragga tutti i frutti di grazia che vuole tanto sono infiniti non finirà mai è una cosa pazzesca allora questo è diciamo è una cosa la prima cosa la prima differenza fondamentale fra l'alleanza di Cristo e le altre e poi un'altra un'altra differenza importantissima è questa nelle altre alleanze l'uomo offriva qualcosa l'uomo rispettava la legge e Dio lo benediva invece la nuova alleanza è ancora più meravigliosa perché perché non è l'uomo che offre qualcosa e Dio lo benedisce ma è Dio stesso in Gesù Cristo che si offre al Padre e quindi ci ottiene la benedizione cioè mentre la benedizione nelle altre alleanze era fondata su un'offerta difettosa che facevano gli esseri umani invece la nostra benedizione è fondata su un'offerta perfetta e questo vuol dire che mentre nella offerta difettosa di prima la benedizione ci poteva essere strappata in quella di adesso non può essere strappata infatti San Paolo dice nessuno ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù perché l'alleanza adesso è fondata in Cristo Gesù che è mediatore sacrificio perfetto e quindi la benedizione su di noi è perfetta non è difettosa non che prima fosse difettosa la benedizione la benedizione di Dio è sempre perfetta ma l'offerta che si faceva per riceverla era difettosa invece adesso visto che la benedizione nell'antico testamento era legata alle opere degli uomini ma le opere degli uomini sono difettose quindi se un uomo sbagliava la benedizione gli se nannava e quindi la benedizione non era mai sicura infatti le alleanze non sono mai durate invece adesso la benedizione è sicura perché è fondata su un'offerta perfetta e un mediatore perfetto quindi nessuno ce la può togliere ma vi rendete conto di quello che sto a dire io adesso se stessi accoltando mi metterai a esaltare di gioia come Davide quando danzava davanti all'arca proprio che le adora a Dio cioè adesso non è che la benedizione è fondata su un'opera che fa Doroberto inteso come uomo soltanto quindi poi Doroberto può essere difettoso e allora la benedizione si rovina no San Paolo dice la scrittura dice la vostra eredità è conservata nei cieli dove né tigna né ruggine la possono rovinare perché perché non è fondata in prima battuta sulle opere Doroberto ma è fondato prima di tutto sul sacrificio perfetto di un mediatore perfetto allora che cosa comporta che c'è stato un mediatore perfetto che ha offerto un sacrificio perfetto comporta che la benedizione è fondata come dice San Paolo nei tre romani è fondata non sulle opere soltanto umane come nella legge di Mosè ma è fondata sulla grazia cioè fondata sul sacrificio che Gesù ha fatto per noi infatti Gesù dice prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza cioè l'alleanza è fondata sul calice del sangue di Cristo quindi è fondata su un'opera divina e umana è fondata sul verbo fatto carne quindi è un'opera divina e umana non è soltanto umana ed essendo divina e umana non si può consumare non si può rovinare perché in sé è perfetta è un sacrificio perfetto e rende perfetti tutti quelli che santifica dice la lettera agli ebrei allora ecco questo è importantissimo la benedizione di Dio non si può perdere nella nuova alleanza perché non ho offerto un'opera umana perché la benedizione è legata al sacrificio di Cristo e quindi la benedizione su di me scende poi come ci insegna la Chiesa io questa benedizione posso cooperare cioè accettarla o no quindi malgrado una benedizione così meravigliosa così sicura perché nessuno la può rovinare così eterna che non finisce mai così con meriti infiniti che è senza limite io però Dio mi lascia libero di poterla accettare o no e quindi allora malgrado la benedizione ormai in sé è perfetta io posso disprezzarla rifiutarla aiutarla compiere la bestemmia contro lo Spirito Santo fino alla fine della vita quindi non pentirmi mai dei miei peccati non convertirmi mai e quindi andare all'inferno perché la Chiesa ci insegna che la benedizione è così perfetta dato che è ottenuta da un mediatore un sacrificio così perfetto come Gesù che se io l'accetto così come ci insegna la Chiesa Cattolica questa benedizione contiene e porta come frutto il perdono di tutti i peccati infatti addirittura Gesù ha istituito un sacramento per il perdono di tutti i peccati perché? perché è talmente illimitata la benedizione in Cristo che ottiene il perdono di tutti i peccati la guarigione di tutte le malattie dalle sue viaghe e sede guariti la liberazione da tutti i mali demoni infatti Gesù dirà non ci indurra in tentazione ma liberaci dal maligno dal male è una cosa che chiede il Gesù ma perché Gesù lo chiede? perché come se dicesse al Padre Padre dopo questo mio sacrificio così perfetto questo figlio di Abramo non può più rimanere schiavo vi ricordate quando la donna che era schiava di 18 anni Gesù dice voi sciogliete il bue l'asino per portarli ad abbeverarsi e questa figlia di Abramo che è stata nante di uno schiavo a 18 anni non doveva essere liberata il giorno di sabato cioè Gesù vuol dire questa figlia che è stata resa figlia da un sacrificio così perfetto e da un meditore così perfetto questa figlia è veramente di Abramo perché è figlia di Dio in Gesù Cristo e allora è veramente figlia di Abramo come dice San Paolo non doveva essere liberata da questi demoni e da questi mali che si può dire che questa figlia non ha offerto un sacrificio perfetto per essere liberata non si può dire sarebbe una bestemmia perché il sacrificio Gesù stesso l'ha offerto quando io dico io offro la comunione a Dio la comunione è Gesù Cristo io non offro più soltanto dei miei atti di carità ma io i miei atti di carità li unisco come ci insegna la Chiesa all'unico sacrificio di Cristo i miei atti di carità diventano cariati a Dio attraverso la grazia perché si uniscono all'unico mirabile e perfetto sacrificio di Gesù in croce quello che ho spiegato fino adesso altrimenti Dio non si compiacerebbe dei nostri atti di carità dei nostri sacrifici perché davanti a Lui sarebbero sempre difettosi perché solo umani invece quando io unisco a Gesù il sacrificio diventa umano perché è unito a Gesù e divino perché è unito al verbo fatto carne a Gesù che è Dio fatto carne e allora diventa un sacrificio perfetto il mio ma perché l'ho unito al sacrificio perfetto di Cristo ecco perché posso offrire le mie sofferenze non ci insegna la Chiesa ecco perché io posso compiere opere buone opere di misericordia perché tutte queste opere che io compio le compio dopo che Gesù col suo sacrificio mi ha ottenuto una benedizione infinita e per questa benedizione in unione al sacrificio di Cristo i miei cinque panni e due pesci che sono gli atti umani vengono benedetti da Dio col sacrificio di Cristo uniti a Cristo e si moltiplicano e diventano carità che sazia intere folle l'umanità intera c'è una una beata beata Alessandrina Costa che si dice che col suo sacrificio e sofferenze ha salvato milioni di anime milioni questo che l'ha detto Gesù a lei la beata lei ma non è che le sue sofferenze le sue sofferenze unite a quelle di Gesù sono diventate perfette e unita l'unico mirabile sacrificio all'unico mediatore fra cielo e terra per intercessione di Maria degli angeli e dei santi ma gli angeli di Maria intercedono e partecipano della mediazione di Cristo ma l'unico vero mediatore in sé è il verbo fatto all'uomo è Gesù Cristo tutti noi partecipiamo del sacerdozio di Cristo e quindi partecipiamo della sua mediazione e quindi noi possiamo mediare cioè offrire i nostri sacrifici ma in unione all'unico mediatore all'unico sacrificio e allora i nostri sacrifici davanti al Padre acquistano il valore del sacrificio di Gesù ma senza il sacrificio di Gesù i nostri sacrifici i nostri atti di carità e le nostre opere non non diventano perfette davanti a Dio Dio come diceva Santa Teresa Taglia Dio si compiace dell'umanità di suo figlio e compiacendosi dell'umanità di suo figlio nell'umanità di suo figlio si compiace anche dei nostri atti umani che gli offriamo ma senza l'umanità di Cristo non c'è un'umanità in cui Cristo si compiacerebbe perché anche la Madonna è stata preservata e resa perfetta in vista dei meriti di Cristo cioè in vista dell'unico mediatore dell'unico sacrificio di Cristo altrimenti senza questo sacrificio e mediatore neanche Maria sarebbe stata resa perfetta quindi questo è pazzesco allora ti do una bella notizia a te che puoi ascoltare la tua benedizione non è fondata sulla tua difettosità ma è fondata su quello che Gesù ha fatto per te e proprio perché Gesù ha ottenuto una benedizione così infinita tu vuoi anche convertirti dai tuoi difetti dai tuoi peccati vuoi fare opere buone tutto quello che ci insegna la Chiesa Cattolia ma ricordati sempre che tu puoi fare tutto questo perché fra te e Dio c'è un'alleanza nuova la nuova eterna alleanza è stata fatta nel sacrificio perfetto e nel mediatore perfetto che è Cristo è Cristo che rende perfetta l'umanità rende perfetti i sacrifici rende perfetto tutto quello che Dio vuole che si è reso perfetto per dargli gloria ma senza Gesù Cristo non c'è altro nome sulla terra in cui si può trovare salvezza questo è veramente pazzesco allora adesso voglio fare un ulteriore passaggio è l'ultimo ma è di una bellezza pazzesca se voi prendete gli atti degli apostoli e c'è scritta una cosa atti degli apostoli 13 versetti 32 in poi 13 versetti 32 in poi allora sentite e noi vi annunciamo che in latino è e noi vi predichiamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata cioè la promessa fatta ai padri i padri so Abele e Giacobbe e Mosea Ronne Noè tutti quelli che abbiamo detto no? e Melchisede che a modo suo diciamo un'alleanza diciamo in qualche modo forse potremmo dire la più perfetta rispetto a Gesù perché si dice se è facettato per sempre al modo di Melchisede che no? ma naturalmente Melchisede era un'immagine il vero perfetto è Gesù allora la promessa fatta ai padri e vi ricordo tutti i padri sono quelli prima appunto di Gesù si è realizzata sentite qua che meraviglia perché Dio l'ha compiuta per noi Dio l'ha compiuta per noi loro figli risuscitando Gesù quindi Gesù è morto si è offerto in sacrificio ed ha offerto come mediatore un sacrificio perfetto quindi per questo sacrificio l'alleanza si è compiuta come dice qui la promessa si è compiuta la promessa è l'alleanza la promessa di un'alleanza quindi l'alleanza si è compiuta però sentite bene non bastava che Gesù morisse questo ha compiuto l'alleanza ma San Paolo dice una cosa meravigliosa dice quando c'è un testamento c'è una promessa deve prima morire il testatore e dopo diventa attuale la promessa quindi Gesù è morto ha offerto il sacrificio ha realizzato il testamento la promessa è morto il testamento è diventato quindi attuale per noi figli infatti dice Dio l'ha compiuta cioè la resa attuale per noi risuscitando Gesù quindi Gesù morto ha realizzato il sacrificio e ha realizzato la promessa fatta ai nostri padri di un'alleanza nuova e questa alleanza in Gesù che è risorto e dopo che è morto il testatore Gesù appunto è risorto e lui stesso è risorto come testatore prima è morto e poi è risorto e lui stesso la resa dice qui attuale per noi figli quindi per te il perdono dei peccati dopo la risurrezione di Gesù Cristo è attuale la promessa che era contenuta nell'alleanza che ha come prima cosa il perdono dei peccati lo scioglimento dell'inimicizia fra l'uomo e Dio è attuale ed è attuale cioè il testamento è valido dopo la morte di Gesù a risurrezione è valido il testamento ormai l'eredità è tua e in questa eredità c'è sta il perdono dei peccati per esempio infatti se tu ti vai a confessare il perdono dei peccati lo ottieni perché perché la promessa in Cristo è diventata attuale quindi quando tu devi a confessare dato che il testamento l'eredità è tua quando devi a confessare l'eredità la ricevi non è che non ci trovi niente in banca tra virgolette non è che vai lì il conto è voto quando tu vai in banca nella banca della misericordia tu trovi che è pieno il conto perché il testamento è stato fatto il testatore è morto quindi l'eredità è diventata di discendenti che siamo noi e Gesù ce l'ha attualizzata cioè ce l'ha resa presente a noi ce l'ha donata e ce l'ha comunicata e ce la comunica come dice la Chiesa attraverso i sacramenti attraverso le preghiere attraverso i carismi e così via ma tu quando ti vai a confessare puoi essere perdonato perché l'eredità di Gesù ormai è diventata attuale ce la trovi quando vai lì non è che ci trovi l'immagine dell'eredità ci trovi proprio l'eredità vera l'eredità che viene dal sangue di Cristo dalla nuova eterna alleanza quando tu preghi per guarire Gesù dice nel Vangelo quando pregate abbiate fede di averlo ottenuto quando pregate e lo riceverete ma come posso io avere fede di averlo ottenuto quando prego perché so che con la risurrezione il Padre mi ha reso attuale la guarigione per me perché fa parte dell'eredità ha capito quello che te sto dì? guarda che una cosa è una pazzia d'amore è Gesù questa è pazzia d'amore cioè questo è Dio che ci ama da pazzi cioè una volta che Gesù è morto il testatore è morto il testamento è diventato effettivo l'eredità è mia e Gesù per essere sicuro che fosse mia è risorto per dimmelo direttamente lui e dimmi questo è la vostra eredità con la mia risurrezione io lo resto attuale in qualche modo sono il primo testimone risorto il vero testimone che vi dice te testimonio e te mando lo Spirito Santo che te lo testimonierà anche che questa è di te tua ti sembra troppo bello ma sappi che non è niente rispetto a quello che veramente Gesù ha donato allora qua vi voglio dire una cosa importantissima questa eredità quindi proprio dona il perdono dei peccati la guarigione dalle malattie e dai mali la liberazione dei demoni la santificazione per diventare santi e quindi vivere nella perfetta carità compiendo opere buone che sono appunto la preghiera il parlare bene l'operare bene l'operare di misericordia tutte quelle che la Chiesa Cattolica insegna no? ma adesso vi voglio di un'altra cosa come vuoi tu credere veramente che se preghi per la guarigione puoi pregare veramente come dice Gesù pregate credendo di aver ottenuto no? che credete che credete che otterrete credete che avete ottenuto e lo riceverete come puoi pregare così? guardate ti dico una cosa semplice quello che mi ha risposto stamattina lo Spirito Santo proprio con una sua ispirazione con un pensiero no? Gesù mi ha fatto capire figlio mio ma se io come eredità che racchiude tutte le eredità v'ho dato lo Spirito Santo dopo la risurrezione no? lo Spirito Santo è la persona eredità cioè la persona che ci comunica tutta l'eredità di Gesù Cristo no? quindi ci comunica la guarigione la liberazione tutto quello che poi esiste di beni no? ogni dono perfetto dice San Giacomo viene da Dio e lo Spirito Santo è la persona eredità è colui che ci comunica l'eredità ottenuta da Cristo col suo sacrificio e la sua mediazione allora Gesù mi ha fatto capire figlio mio ma se io sono San Polo dice ma se Dio vi ha dato il figlio cosa non vi darà insieme con lui? è la stessa cosa ma se Dio ti dona lo Spirito Santo che è Dio stesso cosa non ti donerà insieme con lui? e poi me l'ha fatta capire ancora meglio e mi ha fatto capire questo figlio mio tu lo sai che il peccato è la cosa più brutta che può capitare una persona perché il peccato rovina l'anima vedete la malattia può rovinare un corpo ma il peccato rovina l'anima la malattia può rovinare un corpo per vent'anni trent'anni quarant'anni l'anima può rovinare e il peccato può rovinare l'anima per l'eternità perché voi sapete che se una persona muore un peccato mortale senza ventirsi va all'inferno per l'eternità questo lo dice il catilismo da la Chiesa Cattolica allora Gesù dice ma ha fatto capire figlio mio ma se io non sono disposto a perdonare tutti i peccati che sono la cosa più grave più brutta che può capitare un figlio poi pensi che non sono disposto a guarire una malattia che riguarda solo il suo corpo o la sua psiche o anche il suo spirito ma il peccato è voluto la malattia dell'anima o la debolezza dell'anima la malattia è una cosa diversa ma la debolezza dell'anima è dovuta al peccato originale quindi non è detto che sia colpevole allora Gesù mi ha fatto capire ma se io sono disposto a perdonare tutti i peccati nessuno escluso tu credi che non sono disposto a darti una cosa minore di questa che è la corrigione delle malattie la liberazione dei demoni anche la liberazione dei demoni è una cosa minore per perdonare i peccati perché i demoni vengono cacciati dal corpo mica stanno nell'anima invece il peccato distrugge proprio rovina l'anima ma non rovina il corpo soltanto all'anima anche e la può rovinare nel tempo ma anche per l'eternità ho fatto l'esempio allora ecco se Dio è disposto a perdonare tutti i peccati vuol dire che è disposto anche a guarirti dalle malattie dai malesseri dai dolori da liberarti dai demoni ed è disposto anche a santificarti a santificare la tua anima e il tuo corpo considerate che adesso io vi ho fatto vi ho letto questo passo meraviglioso dove si dice che noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata perché Dio l'ha compiuta per noi i loro figli e dite Dio l'ha compiuta per noi figli e per darci l'eredità a noi figli risuscitando Gesù nel momento in cui Gesù è risuscitato l'eredità è stata donata ai figli ai figli ai figli a noi allora adesso vi dico due cose che ci aiutano ancora di più a innamorarci di Gesù sono due i motivi per cui noi non possiamo ricevere questa eredità una una sarebbe un motivo sarebbe se l'eredità fosse fondata sulle nostre opere difettose perché perché essendo difettosi difettando tra virgolette perderemo la benedizione invece questo è risolto perché l'eredità è fondata sulle opere che ha fatto Gesù per noi e le nostre diventano perfette perché le uniamo alle sue quindi l'eredità è fondata su opere perfette cioè sull'opera di Gesù Cristo che è perfetta e quindi nato disprezziamo ma non la possiamo perdere significa nessuno ce la può strappare nessuno ci può separare dall'amore di Dio a meno che non lo vogliamo noi disprezzando quest'amore rifiutandolo perché il demonio nell'Antico Testamento dato che l'uomo è difettoso quando offriva le cose gliele poteva fa offrire in maniera ancora più difettosa e quindi l'uomo dato che la benedizione era legata all'offerta l'offerta difettosa per te fare la benedizione e l'uomo per te fare la benedizione ma adesso l'uomo non la può rovinare l'offerta perché l'offerta è l'offerta fatta da Gesù e lui quella non la può toccare non può toccare nel sacrificio perché è perfetto non lo può rovinare perché è un sacrificio divino umano e quindi lui non ci può mettere bocca non lo può rovinare perché ha fatto Gesù e quello che ha fatto Gesù come dice la scrittura quello che Gesù apre è aperto e quello che chiude è chiuso non lo può toccare nessuno e non lo può rovinare neanche come mediazione perché è sempre Gesù che lo offre quindi il demonio si attacca perché il sacrificio è inespugnabile e quindi vuol dire che anche la nostra benedizione non ce la può rubare nessuno la possiamo solo rifiutare noi ma non ce la può strappare a nessuno e poi c'è un altro secondo modo in cui si può non entrare completamente in possesso di questa benedizione il mio popolo muore per ignoranza infatti si dice San Paolo dice se non c'è chi predica non ci sarà chi ascolta se non ci sarà chi ascolta non ci sarà chi crede e se non ci sarà chi crede non ci sarà chi in qualche modo scoprirà quello che Gesù ha fatto le meraviglie che Gesù ha fatto per lui e quindi in qualche modo per ignoranza perderà la benedizione poi Dio in qualche modo se l'ignoranza non è colpevole la fa arrivare lo stesso in qualche modo però Dio ha voluto che il modo ordinario per far arrivare la buona notizia che noi siamo eredi in Cristo è la predicazione infatti qua si dice in Atti 13 32 vi ho detto che in latino si dice non si dice noi vi annunciamo ma si dice noi vi predichiamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata allora bisogna che si predichi che la promessa dell'alleanza fatta ai padri si è realizzata per noi figli in Gesù Cristo e si è attualizzata in Gesù Risorto vi rendete conto perché è importante l'evangelizzazione e la predicazione vi rendete conto perché Gesù ha detto proprio oggi andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura perché perché io voglio che ogni creatura sappia che l'alleanza fatta con me con me col Padre ormai è un'alleanza nuova eterna perfetta che vi dona e vi ottiene tutto perché vi ha reso figli perché vi ha dato lo spirito del suo figlio che è Gesù Cristo ecco perché è importante la predicazione ecco perché bisogna annunciare il Santo Vangelo ma qual è il Santo Vangelo qual è la buona notizia a buona notizia come dice qui Atti 13 32 è che la promessa fatta ai nostri padri cioè la promessa dell'alleanza si è realizzata in Cristo e si è attualizzata per noi e per tutte le epoche sarà attuale perché una volta che Cristo è risorto è vivo e intercede presso il Padre ed è vivo in eterno ed essendo vivo in eterno rende viva attualmente in eterno sempre l'alleanza per tutti quelli che la vogliono mentre le vittime che si offrivano nell'Antico Testamento morivano e quindi se ne dovevano offrire altre in qualche modo scadeva se vuoi dire l'alleanza per modo un po' sbagliato però per far capire che la vittima non era perfetta perché durava nel tempo e quindi si devono offrire continui sacrifici nel Tempio invece Gesù si è offerto una volta per sempre al Padre con un valore eterno infatti io quando offro la Santa Messa non offro un nuovo sacrificio o un altro sacrificio ma io offro sempre quell'unico eterno sacrificio di Gesù solo che là Gesù l'ha offerto lui direttamente sulla cruce e adesso lo offre per le mani dei facerdoti ma è l'unico eterno meriti infiniti del sacrificio perché non c'è bisogno di nuovi sacrifici perché l'unico eterno sacrificio è il sacrificio perfetto vi rendete conto? non ci potranno essere nuove alleanze perché ormai c'è stata la nuova eterna alleanza Gesù lo dice cateci del mio sangue è la nuova eterna alleanza versata per voi e per tutti per voi e per tutti quindi per tutte le epoche in remissione dei peccati perché Gesù ha detto in remissione dei peccati e non ha detto in remissione delle malattie in remissione delle possessioni in remissione perché? perché una volta che Dio è pronto a rimettere i peccati che è la cosa più brutta che esiste è la malattia più brutta che esiste è pronta a rimettere pure tutte le altre cose brutte perché tutte le altre sono meno di quella se una persona è disposta a date mille miliardi poi non fa problemi a date dieci euro ecco perché non lo specifica Gesù ecco questo è veramente la meraviglia è una scintilla di questa meraviglia perché capirai si potrebbe predicare tutta l'eternità anzi non basterà l'eternità per adorare queste meraviglie però la nuova ed eterna alleanza è diversa dalle altre alleanze le compie le altre alleanze tutti i sacrifici rappresentati nelle altre alleanze vengono compiuti nell'unico e mirabile sacrificio di Gesù Cristo al Padre infatti dice non è voluto né sacrificio né offerta ma un corpo mi è preparato cioè Padre non hai voluto sacrificare l'offerta delle alleanze passate ma mi è preparato un corpo infatti il verbo si è fatto carne e Gesù non ha offerto un agnello non ha offerto una capra ha offerto se stesso il suo corpo e sull'altare infatti si offre il corpo e il sangue di Cristo vedete che è l'unico mirabile sacrificio è una cosa incredibile è è è è è è è è è veramente perché è è un un essere di colmi dell'amore di Dio che non ha limiti non ha limiti è qualcosa di di incredibile per darvi l'ultima prova biblica che quello che vi ho detto è tutto vero se voi prendete Giovanni 19 30 il latino si dice consumatum est cioè tutto è compiuto quindi quando Gesù stava morendo ha detto tutto è compiuto cioè la nuova alleanza è completamente compiuta adesso io come testatore muoio il testamento è valido l'eredità ai miei figli tutto è compiuto è compiuto il perdono dei peccati che poi si attualizza e viene comunicato attraverso i sacramenti è compiuto la guarigione di tutte le malattie è compiuto la liberazione di tutti i demoni è compiuto la santificazione è compiuto la redenzione è compiuto tutto quello che Dio aveva promesso per mezzo dei padri in tutte le altre alleanze si è compiuto in maniera definitiva eterna mirabile unica in Gesù Cristo nella sua mediazione e nel suo sacrificio Amen 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 Grazie.